Se devo venire qua dentro per infilarmi dal lato di un letto e uscire dall'altro lato, non mi interessa, perché è fuori, sai quanto ne ho? Ho capito che era una cosa un po' più importante, una cosa sulla quale magari potevo investire. Io non ci credevo. Anche tu hai sentito qualche cosa mentre parlavano loro, perché se no non si avessi venuto a chiedermi come stavo. Non ho mica detto che l'ho dimenticato, non ho mica detto che ho cancellato due mesi che sono stato con lei. C'erano dei dubbi che volevamo approfondire, però insomma, ripensamento no. C'è uno per te che fai. Io quello che provo lo tiro fuori, lo vedi e non posso farci niente. L'idea di venire qui oggi, il mio pensiero era che... Dopo tre mesi che sei qui per una persona, la razionalità sparisce se ti piace una persona. Se stai cercando un motivo per mettere zizzagna quando non c'è, me lo dici, non mi creare problemi, me ne vado, devi sceglierlo, me ne vado. Grazie. Grazie.